ciao sono sarah poiese e ti do il benvenuto nella sewing class liste bottonature perfette in questa sewing class scoprirai tantissime liste a bottonature diverse imparerai a creare il cartamodello di ogni lista bottonatura e poi passerai alla confezione potrai infatti andare a creare tanti progetti diversi tante liste a bottonature da quelle decorative a quelle più classiche grazie anche a tante inquadrature diverse perché andremo alla macchina per cucire vedrai i dettagli veramente molto molto bene che ti permetteranno di andare a realizzare anche tanti dettagli di confezione attraverso le tecniche che ti passano dai cartamodello alla confezione delle tue liste a bottonature pertanto attraverso queste unità di apprendimento potrai scoprire assieme come realizzare per esempio la lista bottonatura con paramontura oppure la lista bottonatura con il dettaglio centrale che è veramente molto bella o ancora la lista bottonatura ben rifinita la lista bottonatura con i bottoni le asole tecnicamente elastiche o perché no imparerai comunque a fare una lista bottonatura semplice basica liscia come la lista bottonatura con il contrasto interno e perché no faremo anche la lista bottonatura con la ribattitura quella classica lista bottonatura che ti permette di avere il sormonto nella parte laterale e che ti permette soprattutto di avere una bella lavorazione nel suo retro ma non è finita qui perché scopriremo anche le liste a bottonature con il dritto filo pertanto scopriremo dal cartamodello alla confezione come andare a creare anche delle perfette liste a bottonature con i tessuti in sbieco e quindi con liste a bottonature a contrasto ma non ti preoccupare che la lista bottonatura semplice c'è all'interno di questa sewing class e imparerai anche a realizzare delle liste a bottonature super furbe grazie alle paramonture nei casi in cui tu desiderassi utilizzare dei capi sfoderati o magari con collo o senza collo questa sewing class è perfetta per te se sei alle prime armi con il cucito sartoriale vuoi imparare l'abc vuoi imparare ad andare diritta nelle tue cuciture e a creare delle liste a bottonature per dei capi senza collo e quindi imparare anche a lavorare le il giro colli con la paramontura ma anche le liste a bottonature dei capi con colletto questa sewing class è perfetta per te se sai già cucire ma stai cercando le tecniche furbe per andare a cucire in modo smart e stai cercando tutti quelli che sono i consigli per non sbagliare a cucire per andare a creare delle perfette liste a bottonature che cosa aspetti iscriviti subito la sewing class liste a bottonature è perfetta perché la puoi vedere sette giorni su sette 24 ore su 24 comodamente a casa tua in totale sicurezza e puoi accedere anche ad una community che è proprio lì che ti aspetta pronta a condividere tutte quelle che sono le risorse dedicate proprio al cucito sartoriale di questa sewing class infatti all'interno di queste sewing class troverai sempre una community prontissima in sarapogliese academy a supportarti e commentare ogni corso che scegli ti basterà semplicemente acquistarlo cliccare così continua accedere alla piattaforma e al player di ogni corso e andare a vedere tutti gli approfondimenti legati al corso troverai poi i cuci studenti che hanno scelto le classi e anche i commenti all'interno della discussione e troverai soprattutto tante persone che ti spiegheranno ti insegneranno e ti diranno come si sono trovate bene all'interno delle sewing class e che condividono ordunque tutte le loro opinioni i dubbi e le curiosità potrai infatti anche commentare e ricevere i commenti da parte delle altre persone che partecipano alle sewing class perché ti basterà scegliere ogni percorso all'interno delle sewing class e andare a ricercare blocchiamo un attimo l'audio giusto per non entrarci con l'audio doppio e ti permetterà pertanto di andare a trovare tanti commenti utili nelle tue sewing class che ti permettono proprio di andare a condividere con la community giro collo profilato con lo sbieco gli approcci dedicati alle eccole qui sewing class all'interno della community infatti all'interno di ogni argomento come per esempio in questo corso giro collo profilato con lo sbieco trovi le cuci i cuci studenti che condividono i loro commenti e che vanno ordunque a condividere anche quelle che sono le chiacchiere fondamentalmente con le altre persone le altre persone all'interno di questa sewing class infatti ti permettono di andare a comunicare condividere il tuo cucito creativo e sartoriale ti aspetto in questa magnifica sewing class dedicata a creare il cartamodello e cucire il cartamodello appena creato su soffa delle liste a bottonature perfette un abbraccio sartoriale Sara Poiese introduzione e programma ciao sono Sara Poiese socialist ed esperta di cucito in questa sewing class dedicata a liste scollature 1 vorrei anticiparti perché ci sarà anche liste scollature 2 ti condurrò assieme a me passo passo alla scoperta del mondo della lista a bottonatura un dettaglio sartoriale che ci condurrà veramente alla scoperta di un universo di personalizzazioni delizioso all'interno di questa sewing class troverai tante unità di apprendimento prima di entrare nel vivo però della sewing class andiamo a vedere tutto quello che sarà il programma di questa sewing class e scopriamo anche assieme come poter interagire all'interno della piattaforma Sara Poiese Academy come poter commentare come poter andare avanti indietro fermare il video trovare spunti pertanto come poter essere davvero operativi al 360 gradi all'interno della piattaforma iniziamo a vedere assieme il programma all'interno di questa sewing class infatti vedremo tanti argomenti è una sewing class veramente molto molto sartoriale ed è dedicata a te che sei alle prime armi del cucito sartoriale se proprio non sai neanche andare dritta a cucire non ti preoccupare perché davvero la sewing class perfetta ma è anche perfetta per te se sai già cucire e stai cercando davvero il format più innovativo più fresco più smart oserei dire che ti permetta di cucire in modo più semplice facile veloce meglio ovunque andremo a vedere oltre all'introduzione al programma che stiamo vedendo adesso quelle che sono le tipologie di lista a bottonatura vedremo poi la lista bottonatura semplice in paramontura scopriremo la lista bottonatura liscia e vedremo anche la lista bottonatura con le asole a vista dettaglio decisamente sartoriale e soprattutto decisamente legato all'haute couture perché presenta le asole elastiche che si trovano solitamente nei corsetti nei corpini vedremo assieme la lista bottonatura liscia con però il tessuto interno a contrasto amatissima dagli uomini e la lista bottonatura rimbattuta con sormonto esempio tipico la camicia casual in jeans con tutte le liste a bottonature con le cuciture a contrasto andremo poi a vedere la lista bottonatura applicata la lista bottonatura applicata con contrasto centrale la lista bottonatura applicata in paramontura e vedremo assieme delle conclusioni le liste a bottonature ti garantisco che sono davvero davvero tante infatti qui ho segnato tante liste a bottonature diverse che ti permetteranno davvero di approfondire il mondo delle liste a bottonature ma scopriamo un attimino assieme come poter vedere bene un corso all'interno di sarapoyes academy intanto devi visitare il sito ovviamente ci sei già dentro se stai andando a visitare il sito con una precisazione quando vedi sarapoyes academy.com con la parolina in alto a destra accedi sign in vuol dire che non ti sei logato o logata questo se lo stai guardando da computer desktop mentre se lo stai guardando da computer comunque ti compare il bottoncino accedi sign in nel menu ad hamburger una volta che hai cliccato su accedi sign in e adesso giusto fatemi fare un accedi giusto perché così insomma non si vede la mia password una volta che hai fatto questo processo di accesso semplicemente accedi alla tua area di sarapoyes academy con tutte le credenziali inserite infatti cambia anche il menu qui sopra perché vedi che c'è la parola me pertanto te stesso vedi il tuo profilo vedi i tuoi messaggi di poste in arrivo vedi i dati del tuo account e vedi la possibilità anche di cliccare esci sign out all'interno della tua dashboard vedi quelle che sono le tue i tuoi corsi per esempio i corsi ai quali hai i corsi che hai già acquistato vedi il tuo profilo vedi il tuo avatar puoi visitare il tuo profilo pertanto cambiare anche la foto del profilo e soprattutto scendendo in basso vedi le sewing class e i webinar è in grassetto tutto quando vuol dire che stai visualizzando tutto quello che è disponibile lato pubblico di sarapoyes academy vedi i i tuoi corsi cioè i corsi che hai acquistato vedi i corsi ai quali non sei iscritto cioè i corsi che ancora non hai acquistato puoi vedere i corsi recenti se ci clicchi sopra i corsi più popolari i corsi gratis i corsi sono anche divisi per categorie puoi scegliere solo i corsi di abc del cucito e per esempio cliccando vedrai scollature perfette 1 perché ci sarà anche scollature perfette due tagliacucci avanzato tagliacucci base mentre puoi andare a vedere per esempio nel cucito creativo il corso dedicato alle tovagliette non sottovalutare questo corso mi raccomando perché ti insegna a realizzare degli angoli perfetti a 45 che andrai ad utilizzare in realtà anche nel cucito sartoriale quando vuoi andare a creare l'angolo di un cappotto foderato puoi poi andare a vedere per esempio i corsi dedicati al cucito sartoriale come il corso dedicato all'applicazione delle cerniere o il corso delle tasche i corsi dedicati alla modellistica man mano i corsi qui crescono ogni mese per scegliere un corso basta che quando sei sulla tua dashboard o puoi anche attenzione vedere i contenuti dalla community puoi cliccare direttamente su corsi scegli il corso di tuo interesse sia che tu l'abbia già acquistato e quindi vedi continua o se non l'hai ancora acquistato vedi la parolina acquista vedi anche la percentuale di completamento del tuo corso clicchi sul corso e da qui inizia il fantastico mondo di sarapois academy perché all'interno di ogni corso vedi il livello la categoria ed è linkabile per cui se ci clicchi sopra vedrai tutti i corsi di quella categoria vedi quanti lezioni ci sono all'interno di ogni corso puoi regalare il corso se hai un coupon puoi riscattarlo se clicchi continui accedi direttamente alla al player dei corsi adesso ci accederemo vedi poi sotto la durata le domande frequenti pertanto magari prima di porre delle domande al team di supporto o in generale alla community vai a cliccare qui e leggi le fac e vedi anche l'autore perché ci saranno tanti autori vedi quando va online il corso e comunque lo puoi sempre vedere offline a 24 ore su 24 7 giorni su quattro su 7 puoi vedere che cosa è incluso all'interno di ogni corso e qui sotto eccolo qui inizia a vedere i contenuti di ogni corso li puoi vedere sia da qui scorrendo ma anche se tu clicchi qui sopra su continua ed è importante questa sezione perché ti insegna ad utilizzare la piattaforma vedi davvero e adesso qui lo fermo un attimo perché altrimenti parliamo tecnicamente con la voce sotto accedi alla parte sinistra della piattaforma del tuo corso ne sto prendendo uno a titolo di esempio e vedi sulla sinistra il percorso il capitolo o meglio l'unità di apprendimento di ogni corso si chiamano così unità di apprendimento se tu clicchi sopra l'unità di apprendimento vedi che al suo interno ci possono essere più o meno contenuti come per esempio tanti contenuti quell'inizio magari soltanto il video dedicato se tu accedi ad un contenuto in particolare come per esempio il primo contenuto che è sempre gratuito che scopri la sua in class ciao è un contenuto eccolo qui che lo fermo sempre è completamente gratuito e quando accedi al contenuto vedi che si evidenzia con la righina colorata questo è essenziale perché la righina colorata ti fa capire che sei sul contenuto da te selezionato puoi pertanto in questo modo a destra guardare il tuo contenuto di interesse e poi altresì anche andare a visualizzare questo contenuto con alcune tecnicamente personalizzazioni nel senso che puoi andare anche a adesso qui cerco di alzarlo in modo tale che cerco di fartelo vedere ovviamente sono finita con gli occhi chiusi ovvio puoi andare eccoci qui a cliccare play cliccare indietro di 10 secondi cliccare avanti di 20 secondi in questa sezione centrale qui oppure puoi direttamente aumentare il volume da questo segmento o in questo tastino qui centrale migliorare alzare o abbassare la qualità del tuo video e soprattutto questo che è fenomenale velocizzare il video fino al doppio della sua velocità o fare un playback cioè andare più lento del 50 per cento per 0.5 vuol dire che puoi rallentare la velocità di visualizzazione del video mentre il quadratino qui a lato l'ultimo quadratino in basso a destra che stai visualizzando ti permette di visualizzare questo video a tutto schermo ogni volta che vuoi lasciare una qualsiasi commento all'interno di un'unità di apprendimento che hai selezionato ti basta cliccare l'unità di apprendimento di tuo interesse e poi andare a cliccare discussione in questo modo andrai a vedere la discussione legata proprio all'argomento che hai scelto all'unità di apprendimento che hai scelto vedi qui sewing class cucire scolature perfette scopri la sewing class bene è proprio scopri la sewing class il video che tu hai selezionato puoi poi ricordati cliccare su questi libricini questi libricini sono degli ebook che ti insegnano ad interagire all'interno di ogni corso e quindi scoprire come poter per esempio commentare questo corso e soprattutto se questa sewing class ti piace ti piacerà o ti è piaciuta torna proprio sulla prima unità di apprendimento di ogni sewing class che hai acquistato e dove c'è scritto scopri la sewing class ci clicchi premo un attimo stop solo perché altrimenti parte la registrazione e quando si è attivato puoi cliccare su discussione e scrivere il tuo messaggio puoi pertanto condividere anche un indirizzo un url puoi condividere un'immagine pubblicare un sondaggio e farai capire pertanto essendo questo primo capitolo di ogni sewing class sempre gratuito dove trovi scritto scopri la sewing class puoi permettere anche alle persone che non hanno ancora magari scelto questa sewing class di capire che cosa le sta aspettando ma al tempo stesso permetti alla community perché ci sono tutti i cuci studenti all'interno che li trovi proprio qui sono tutti i cuci studenti che hanno già scelto di avere questa sewing class e che pertanto ti permettono di condividere quello che è il magnifico mondo di ogni singola sewing class pertanto ti do veramente un calorosissimo benvenuto in questa mia seconda creatura che è Sarapoiese Academy perché la prima creatura come ben sai è sarapoiese.com il mio blog la mia prima creatura a tutti gli effetti dove sono andata a introdurre sempre contenuti di cucito creativo e sartoriale dedicati con tantissimi tutorial gratuiti divisi anche proprio per argomenti dai tutorial agli strumenti di cucito alle riviste alle dirette live ai negozi a tutti insomma gli approfondimenti dedicati al mondo del cucito creativo e sartoriale bene benvenuto ufficialmente in Sarapoiese Academy benvenuto in questo fantastico corso dedicato alle liste a bottonature buon proseguimento e ricordati che se hai domande dubbi o curiosità ci sono i cuci studenti e tutta la community di Sarapoiese Academy che passo dopo passo settimana dopo settimana mese dopo mese ti accompagneranno in questo magnifico mondo del cucito sartoriale di qualità perché con Sarapoiese Academy puoi imparare a cucire online meglio ovunque lista a bottonatura semplice in paramontura la lista a bottonatura più semplice in assoluto che tu possa confezionare è la lista a bottonatura senza cuciture a vista creata con una paramontura è una tipologia di lista a bottonatura che si utilizza spesso nelle confezioni senza colletto pertanto in tutte quelle camicie bluse che sono prive di colletto magari hanno un fiocco o comunque hanno una decorazione molto elegante molto sobria tale perché non si voglia dare il classico look da camicia maschile o da camicia sportiva ma si voglia conferire come per esempio le camicine di seta un look invisibile dal lato esterno è una tecnica che va creata sulla base del cartamodello qualunque esso sia infatti questa tecnica ti permette non solo di creare la tua paramontura e la tua lista a bottonatura da zero partendo da un cartamodello che ti stai creando ma anche di creare la lista a bottonatura da un cartamodello che hai già realizzato ricalcato riprodotto preso magari da una rivista di cartamodelli nelicola o da un cartamodello pronto in kit che hai acquistato online o comunque nei negozi specializzati tutto parte dal corpino davanti con una consapevolezza importante questa è il fianco l'incavo manica la spalla il giro collo davanti il centro davanti centro davanti cioè il punto in cui tecnicamente hai il centro del tuo corpino immagina di avere un abito a tubino tutto chiuso il centro del davanti è esattamente il centro senza sormonto alcuno perché la lista a bottonatura parte come concetto dal centro davanti ma poi sormonta un pelino a destra un pelino a sinistra il tuo corpo umano per avere appunto il sormonto dedito alla bottonatura stessa come crearla andiamo a crearci il cartamodello assieme questo è il nostro stampino del cartamodello davanti come riferimento per cui altro non dovremo fare che andare magari anche con l'ausilio di due pesi per tessuti che ci tengono un pochino fermo il cartamodello stesso ops sono andata fuori eccolo qui possiamo ricalcare direttamente il nostro stampo originale passare nella misura della spalla voilà andare a contornare perché questo è tutto il nostro corpino davanti di base andare fino al centro davanti ok e una volta che sono arrivata al centro davanti metto una tacca qui qui e ovviamente la tacca anche qui sotto in modo tale che posso andare a riduplicarmi il mio corpino frontale ok una volta che ho effettuato questo lavoro però devo accuratamente segnare che questo è a tutti gli effetti non il finale della mia lista bottonatura ma il mio centro davanti ed è essenziale da ricordarsi perché adesso dovrò decidere quanto largo andare a creare la mia lista bottonatura presto deciso questo mio righellino allargo tre centimetri lungo 15 centimetri solitamente le liste bottonature sono larghe dai due centimetri e mezzo ai tre quelle soprattutto da donna mentre magari una lista bottonatura da uomo arriva anche a tre e mezzo se questa lista bottonatura totale sarà larga tre centimetri metterò il mio righellino al centro e quindi in centimetro e mezzo rappresenta la linea centrale del mio centro davanti ordunque per avere intanto il mio concetto di lista bottonatura mi devo spostare a destra di 1,5 centimetri e tracciare così la linea finale che identifica quella che è la parte terminale della mia lista abbottonatura davanti sia a destra che sinistra che sia una volta che ho effettuato questo tipo di ragionamento posso andare semplicemente a togliere il mio pesetto per tessuti e andare a duplicare piegare esattamente il pezzo di carta velina che ho tra le mani infatti basterà solo ripiegarlo in prossimità di questa ripiegatura della lista bottonatura che ho appena tracciato piegatela accuratamente e una volta che avrete effettuato l'operazione di piega vi basterà semplicemente comprendere che questa trasformazione è la trasformazione a tutti gli effetti del vostro corpino davanti avente però in questo caso il centimetro e mezzo in più di lista abbottonatura ok quando avete capito questo passaggio siete già a metà dell'opera perché adesso con l'ausilio di una forbice avremo semplicemente bisogno di tagliare in doppio questo pezzo di carta o con una forbice o con un rotary cutter scegliete voi quello che preferite è assolutamente differente l'importante è che andiate a duplicare questo pezzo perché io ve lo faccio duplicare così perché duplicandolo con la carta ripiegata su se stessa ottenete una piega perfetta del vostro lavoro sia sul girocollo sia sulla posizione della spalla e questo vi permette così di avere poi una condizione perfettamente speculare del vostro girocollo fatto questo semplice passaggio dobbiamo andare a definire la curvatura della nostra paramontura fatto questo è molto semplice perché dobbiamo rigirare il nostro cartamodello ve lo lascio bello dritto qui sulla linea della ripiegatura intravediamo qui sotto quello che è il segno eccolo qui marcato dell'incavo ascellare che prosegue eccolo qui e pertanto altro non dovrò fare che prendere una misura mediana della lunghezza della spalla ma solitamente si prende non oltre 5 centimetri di larghezza spalla la si traccia i primi centimetri devono essere categoricamente diritti perché devono vestire bene nella lavorazione della cucitura della spalla mentre i successivi possono essere tranquillamente sagomati sagomati magari anche con un curvilineo o un curvilineo per sarti o in generale uno strumento che ci permetta di curvare agevolmente il materiale di nostro interesse curvate da questo verso oppure curvate con il curvilineo rovescio insomma curvate dove volete l'importante che otteniate una bella stondatura del vostro lavoro io mi metto così in orizzontale solo per comodità e vado a tracciare eccoci qua la curvatura del mio lavoro perfettissima così e vado a trovare la linea eccola qui vedete che mi soddisfi fondamentalmente la realizzazione di questa paramontura una volta che ho trovato questa curvatura questa sarà la curvatura che vado a tagliare e questa volta magari la posso tagliare sempre con il rotary cutter oppure la posso tagliare anche con una forbice da carta vedete voi quello che preferite l'importante ecco che ciò che otteniate sia a tutti gli effetti questo tipo di paramontura con la parte sottostante adesso che andremo a terminare e a ritagliare direttamente dallo stampo originale il risultato che ottieni e lo intravedi già nella trasparenza del corpetto è questo corpino centro davanti con il sormonto della lista bottonatura che ha la sua paramontura perfettamente gestita paramontura che ti consiglio di andare a fliselinare su tutta la dimensione della tua paramontura più attenzione il centimetro e mezzo che ti distanzia dal ripiego al centro e il centimetro e mezzo che tecnicamente ti coprirà la parte di attaccatura fondamentalmente che solitamente hai nella tua creazione magari di asole o bottoni se tu vuoi fliselinare tutta questa parte ti accorgerai che sarà molto più facile andare da qui a qui a qui ad avere un buon sostegno del tuo capo d'abbigliamento della tua camicetta della tua blusa ora che hai tagliato il tessuto della stessa sagoma della tua paramontura ricordandoti sempre di includere i margini di cucitura nel tuo cartamodello oppure se non le vuoi includere ricordati di aggiungere il tessuto il margine di cucitura del tessuto stesso ricordati un trucchetto speciale ossia quello di tagliare la tacca come vedi tagliata qui della tua ripiegatura della paramontura la tacca del centro davanti che ti servirà per tracciare una bella linea per andare a disegnare poi asole o posizioni dei bottoni e la tacca di fine della tua lista bottonatura per così dire lo stesso lo fai nella parte bassa del tuo corpino quindi nell'orlo ma anche nel giro collo del tuo corpino stesso il risultato che ottieni a tutti gli effetti è esattamente questo quello di un corpino e avente le tacche di taglio della ripiegatura ma soprattutto il corpino fliselinato come puoi vedere nelle parti interessate dalla paramontura dal dal punto della ripiegatura dal centro del tuo corpino e dalla fine della tua lista della bottonatura lo fliseline con una fliselina leggera da seta se stai facendo una camicina di seta o con una fliselina da cotone se stai realizzando un corpino in cotone e vai a ripiegare proprio lungo la linea di ripiegatura il risultato che ottieni grazie al ferro da stiro è proprio questa perfetta linea ripiegata diritta trovata apposta con i quadrettini per farti meglio capire quanto diritta debba essere questa linea e come vedi è già perfettamente rifinita nel giro collo opzione 1 puoi rifinirla con il nastro sbieco con il taglia cuci non è questa la sewing class dedicata alle rifiniture qui voglio proprio insegnarti a realitare la lista a bottonatura puoi avere una lista a bottonatura così creata darci un'imbastitura e procedere poi all'applicazione di un colletto se vuoi ma qui vogliamo fare una lista a bottonatura super facile e vogliamo creare delle camicette senza collo per questa tipologia di lavoro pertanto il lavoro da effettuare sarà semplicemente un poni dritto contro dritto in prossimità della ripiegatura del tessuto la tua stoffa prendi un pochino di spilli effettua delle spillature che siano perpendicolari al giro collo stesso in modo tale che non ci siano inghippi nello spillare magari dal verso giusto di cucitura o meno e presta particolare attenzione al tuo punto di ripiego qui perché deve essere davvero perfettamente combaciante una volta che hai effettuato questo tipo di spillatura per così dire a raggera andiamo a cucire questa lista a bottonatura questo collo rispettando il margine di cucitura indicato dal cartamodello pertanto può essere un margine di un centimetro o di un centimetro al metto l'importante è che andiamo ad effettuare questo tipo di cucitura con la macchina per cucire e un semplicissimo punto dritto e un piedino per punto dritto per cui niente di più semplice abbiamo bisogno di appoggiare il tessuto già sotto alle griffe e mi raccomando cerca di avere tessuto non partire senza stoffa dietro ok non partire magrina di tessuto parti con già un po di tessuto sotto in modo tale che quando abbasserai il piedino come vedi la stoffa è già ben avanti rispetto alla posizione dell'ago stesso e questo ti aiuta moltissimo per andare a non far impegliare l'ago o meglio il filo durante l'operazione di cucitura andiamo a fare una piccola saldina facendo alcuni punti avanti alcuni punti indietro io qui sto appositamente utilizzando un filo di un colore a contrasto per farti meglio capire la lavorazione e prosegui nella tua cucitura a margine 1 togliendo l'ago proprio appena appena arrivi in prossimità dello stesso in modo tale che la tua stoffa non venga mai spostata avendo erroneamente messo uno spillo in verticale così che è una delle tecniche che per queste lavorazioni non consiglio assolutamente proseguiamo diritti andiamo ad effettuare una salda alla fine della nostra lavorazione alziamo eventualmente il piedino tiriamo in fuori il filo e andiamo a tagliare la stoffa in eccesso il risultato che otteniamo in questo progetto è una lista bottonatura con un girocollo che comunque va sagomato va ancora rifinito come lo posso rifinire? molto semplice con l'ausilio di un rotary cutter possiamo andare a spinare il margine per ottenere un cosiddetto margine di comfort di mezzo centimetro questa tipologia di ampiezza di margine ci permette di evitare di andare a fare gli eventuali tagliettini però se valutassi invece che il tuo tessuto necessitasse ulteriormente di qualche tagliettino o di qualche sfogo puoi intervenire con degli sfoghini con degli appiombi direttamente nel tuo girocollo adesso altro non dovrei fare che andare a ripiegare il tuo tessuto soprattutto PS consiglio vai a tagliarti la puntina dell'angolino della tua punta di lista bottonatura ripieghi bene verso l'esterno il tuo prodotto fai uscire bene la punta l'angolino della tua lista bottonatura eventualmente puoi anche aiutarti con una piastrina per angoli in modo tale che tu faccia uscire bene bene la puntina del tuo lavoro e voilà la tua lista a bottonatura adesso richiede solo di essere ulteriormente stirata in questa parte superiore e vediamo proprio in diretta perché andiamo ad effettuare la nostra precisa stiratura perché anche sull'operazione di stiratura devi prestare una piccola attenzione cerca di ottenere sempre il tuo girocollo la tua lavorazione bello nel lato esterno cioè porta magari piuttosto un pelo di margine di cucitura nella parte interna questo ti aiuterà a garantire un girocollo veramente impeccabile e ti permetterà anche di avere un girocollo che a vista sia davvero pulito, preciso mentre sul suo lato magari rovescio avere qualche mezzo millimetro ma davvero proprio pochissimo di ripiego interno della tua paramontura in questo modo hai ottenuto una paramontura pulita internamente dietro ci devi attaccare solo il pezzo di paramontura del tuo relativo corpino dietro e la paramontura davanti è pronta per essere perfezionata con le asole oppure con gli occhielli prestando la semplice accortezza che il tuo famoso margine di un centimetro e mezzo che adesso esattamente corrisponde alla righetta bianca per cui la vado semplicemente a rimarcare questo sarà il tuo margine di asola oppure di attaccatura del bottone attaccatura di bottone che ti consiglio di tenere a circa un centimetro dal margine superiore per cui puoi fare una righettina orizzontale che ti permetta di andare a segnare la tacca del tuo primo bottone di attaccatura e in questo modo sei riuscita ad ottenere con estrema precisione ed estrema facilità la lista bottonatura semplice in paramontura